La sanità si avvicina ai residenti della zona sud di Lucca. È stata inaugurata questa mattina, 27 aprile, alla presenza del governatore della Toscana Eugenio Eugiani, la nuova casa della comunità di Pontetetto, sorta al centro del riqualificato quartiere Giardino. Un edificio moderno costato circa un milione di euro e finanziato in gran parte con fondi statali, che si estende su una superficie di 500 metri quadrati. Gli spazi della struttura di competenza dell'azienda sanitaria saranno divisi in due. Da una parte il centro di urno, con le attività coordinate dalla neuropsichiatria infantile e dotate di zona cucina e spazi ricreativi. Dall'altra i servizi sociosanitari di base, con il CUP, tre ambulatori e il centro prelievi. Nella stessa mattinata, inoltre, è stata inaugurata la Casa della Salute di Fornoli, un progetto atteso da oltre 15 anni dai cittadini di Bagni di Lucca. Una struttura all'avanguardia che si sviluppa su quasi 700 metri quadri e divisa in due zone, una per le attività sanitarie, l'altra per i medici di famiglia. A ultimare il complesso immobiliare c'è anche una parte commerciale, che è ancora in fase di completamento. Sono due interventi che oggi ci tenevo moltissimo alla loro inaugurazione, perché rappresentano un segnale forte che come regione toscana, in questo anno e mezzo, in cui sono stato presidente, volevo che si arrivassi a dare, per dare il segno del rapporto con il territorio.